Dune parte 2 è un film del 2024, diretto da Denis Villeneuve. Questo film è il seguito del film Dune del 2021 dello stesso regista. Tutti i due i film sono tratti dal romanzo Dune del 1965 di Frank Herbert, primo capitolo, primo romanzo, di un filone, la saga di Dune per l'appunto. È passato qualche tempo dal termine del film precedente e ritroviamo nuovamente Paul Atreides, Timothée Chalamet, che viene sempre più inserito nel contesto dei Fremen, il popolo del deserto che lo ha accolto dopo, possiamo dirlo, la fuga, insieme alla madre, da quel tentativo per l'appunto di assassinarlo e di assassinare tutta quanta la sua gente, gli Atreides, ad opera degli Arkonnen. Cosa accade? In questo film, in cui avremo modo di vedere, fin da subito, un avvicinamento molto profondo tra la giovane Ciani, la partita della Zendaya e il nostro Paul, vedremo questo ragazzo, il nuovo duca di casa Atreides, per l'appunto divenire sempre di più quella figura, in parte, diciamo, in un contesto bellico vero e proprio, in parte, al tempo stesso, in un contesto quasi religioso, che per l'appunto abbiamo avuto modo di intravedere nel film precedente. Paul sarà chiamato a divenire sempre di più un Fremen, sempre di più un guerriero, di fatto, sempre di più una figura di spicco in questa cultura, in questa popolazione, rivelandosi come quel frutto, diciamo, del casato, appunto, Atreides, ma soprattutto, inevitabilmente, di quelle, possiamo dirlo, manipolazioni in ambito generazionale che sono state operate dalle Bene Gesserit, quella sorrellanza di cui fa parte Lady Jessica, per l'appunto, e che, a poco a poco, nel corso del tempo, ha dato vita a questo misterioso individuo. Molto presto avremo il concretizzarsi, appunto, della presenza al massimo, se vogliamo, in questo senso, del nostro Paul, e quindi avremo, di fatto, l'arrivo di questa sorta di Messia che andrà a contrastare gli Arconen, sicuramente, e addirittura si spingerà a contrastare quell'imperatore, che qui avremo modo di vedere, interpretato da Christopher Walken, e che, di fatto, assieme agli Arconen, aveva macchinato all'ombra del primo film per poter porre fine alla vita del padre di Paul, il duca Leto Atreides, ma soprattutto di tutta quanta la sua gente. È un film, questo, che arriva come un secondo capitolo, malgrado in realtà sia basato su una metà dello stesso romanzo del film precedente, ricordo la mia esperienza al termine della visione di Dune, col film del 2021, fu un qualcosa di veramente magnifico vedere in sala un film del genere. Mi appassionò tantissimo, ho avuto modo di rivederlo diverse volte nel corso del tempo, e addirittura questo Dune parte 2 l'ho visto a seguito di una maratona con il primo film. È stato utile rivedere il primo film così a distanza di pochissimi minuti, in realtà, dal secondo, perché mi ha dato modo di cogliere tutta una serie di dettagli, sfumature, se vogliamo, e riuscire a seguire tutte quelle piccole cose che fanno parte di questo gigantesco universo creato, per l'appunto, da Frank Herbert. Com'è stato il mio vedere Dune parte 2? Che esperienza è stata? È stata un'esperienza che non mi aspettavo, sia in bene, sia in male. Facendo un paragone un po' forte, per tanto tempo mi è venuto da dire che forse vedere Dune parte 1, adesso possiamo definirlo Dune parte 1, al suo termine mi ha portato a pensare che forse ci sarebbe stata una sorta di rinascita del genere fantascientifico nell'ambito della cinematografia mondiale, e soprattutto si sarebbe cominciato se Dune fosse andato bene ad attingere a quella fantascienza magari dei grandi autori che magari non è mai stata sfruttata così tanto come invece sarebbe potuta essere. Al termine della visione di questo Dune parte 2 rimango per certi versi un pochettino perplesso rispetto a quello che era il mio giudizio dell'epoca. Perché questo? Perché questo film che riesce effettivamente ad arrivare al termine del romanzo Dune per l'appunto il primo del filone in realtà fa quel paio di cose che mi ha dato la sensazione per certi versi di tradire un pochino non tanto il fan che è un pubblico un po' particolare sto parlando del fan per l'appunto della saga di Dune la saga letterale principalmente quanto chi si è appassionato al primo film e che ha avuto la speranza ed in realtà cui è stato promesso tendenzialmente che questa seconda parte sarebbe stata una piena conclusione di quanto visto nella prima. Così è stato ma solo fino a un certo punto questo secondo capitolo che come ho detto arriva a completare la storia del primo romanzo Capostipite del filone ha comunque delle aperture delle aperture che sinceramente non mi aspettavo avrebbe avuto e che per questo di fatto almeno in parte rende questo film questo secondo film di fatto una sorta di intermezzo un intermezzo in cui si tirano per l'appunto tanti fili in cui abbiamo diverse risoluzioni ma al tempo stesso abbiamo gettato delle basi delle basi non per un futuro sa quanto remoto e potenziale con dei seguiti di fatto suppletivi se vogliamo non necessari ma invece a mio avviso per un futuro che a questo punto deve arrivare perché se no temo che per certi versi si andrà un pochettino a depotenziare l'esperienza complessiva di questo dune di Villeneuve questo film comincia nel deserto ovviamente comincia nel deserto con un pol che deve sempre più inserirsi nei Fremen questo popolo che in parte così come la refigure nel corso di questa saga si relaziona con questo pol in maniera un po' particolare in parte si presagisce che forse lui potrebbe essere una figura chiave una figura fondamentale per andare a risollevare la situazione che ci ha creata per l'appunto su Arrakis sul pianeta dune a poco a poco che la storia andrà avanti inevitabilmente il nostro pol sempre più inserito e sempre più parte nel mondo Fremen anche soprattutto forse per l'esposizione alla spezia la cosa straordinaria che permette di spandere di fatto la mente arriverà a conseguire i suoi massimi poteri ci saranno poi alcuni frangenti figli di fatto possiamo dirlo soprattutto delle macchinazioni del Bene Gesserit nella fattispecie di Lady Jessica che porteranno il nostro pol a massimizzarsi per certi versi e ad avere piena consapevolezza di se stesso e delle sue potenzialità in questo film per certi versi ho trovato veramente veramente riusciti soprattutto i personaggi femminili che mi riferisco alla Lady Jessica ad esempio interpretata da Rebecca Ferguson che già avevo intravisto nel film precedente e avevo molto apprezzato e che qui per certi versi ancora di più in maniera ancora più dura possiamo dirlo si alterna dal suo essere madre per l'appunto di Paul ad essere quella guida religiosa o semiguida religiosa che comunque atto delle macchinazioni figlie per l'appunto di quelle macchinazioni che la sua sorellanza ha poco a poco nel corso delle generazioni portato avanti per arrivare ad avere questo fantomatico messia Jessica riesce di fatto a creare la strada per certi versi anche più di quanto Indeterminati Frangenti fa lo stesso pollo che inizialmente non vuole essere questo fantomatico messia vuole semplicemente forse essere parte di questo popolo che lo ha colto e auspicabilmente andare contro a chi ha sterminato la sua gente e ha ucciso suo padre e i suoi amici abbiamo Chani la ragazza Fremen che inizialmente forse era un pochettino scettica riguardo a questo ragazzo ma che molto presto si legherà a lui dando quel tocco emotivo anche un pochino passionale ai determinati frangenti che cerca di relazionarsi con una figura straordinaria com'è sempre di più quella di Paul è con lei che termina questo film è con lei che termina questo film con possiamo dirlo il suo dolore e soprattutto la sua rabbia e la prospettiva per l'appunto di dover affrontare una grande prova che in realtà forse sappiamo essere lei tranquillamente capaci di superare ma in realtà fondamentalmente è questo film ci mostra in più di un'occasione le capacità di questa ragazza addirittura se ho visto bene in alcuni frangenti quello che nel primo film pareva un futuro di Paul in realtà si è rivelato essere un futuro perciani e questa cosa l'ho molto apprezzata d'altro canto abbiamo altri personaggi secondo me molto riusciti come ho detto quelli che ho forzato maggiormente sono forse i personaggi femminili abbiamo la new entry abbiamo la figlia dell'imperatore principessa Irulan interpretata da Florence Pugh che per certi versi è anche della complice figlia delle macchinazioni delle benegesserit ovviamente e che in qualche misura sarà con lei che permetterà dopo questa grande battaglia che c'è stata dopo uno scontro importantissimo che c'è stato al termine di questo film di salvare la vita quell'imperatore quel Christopher Walken per l'appunto che è stato tanto defilato in passato che qui in questo film compare ma che in realtà secondo me è stato sfruttato un po' pochino rispetto a quell'aura a quell'atmosfera che si è generata relativamente a lui questa figura assente come ho detto ma presente nel primo film e che qui ci viene mostrata in certi versi in tutta la sua pochezza e al tempo stesso in tutta la sua oscurità in tutta quella dinamica di legame con gli Arkonnen che l'ha portato di fatti a fare un qualcosa nelle prime parti di questo film apparentemente in maniera sofferta ma poi con determinate parole viene da pensare forse non così sofferta come all'apparenza poteva sembrare questo film però ci presenta altri personaggi nuovi abbiamo ad esempio un personaggio che è interpretato Dustin Butler Heidi Rauta che è forse come dirlo un po' il cattivo principale di questo film di questo seguito questo Arkonnen che era un modo di scoprire attraverso quella consapevolezza di Paul essere più legato a Paul così di Arkonnen di quanto poteva immaginarci è un personaggio che fin da subito appare come un vero pazzo un psicopatico a detta della principessa un po' di tutti diciamocelo è quel personaggio destinato anch'esso forse quello sviluppo di linee generazionali che potrebbe essere un'alternativa potrebbe essere un'alternativa a Paul e di fatti ci sarà una contrapposizione importante fra loro soprattutto al termine di quella battaglia tra le forze possiamo dirlo di Paul e poi le forze degli Arkonnen eccetera questo guerriero all'apparenza così spietato e terribile si scontrerà con il nostro Paul ferendo ma rimanendo ferito in una maniera definitiva e quindi di fatto facendo capolino e poi concludendo già il suo percorso in questo film per certi versi forse per quella che è la presentazione che c'è in questo film di questo personaggio avrei preferito uno sviluppo leggermente maggiore considerato il peso specifico che avrà il suo personaggio per l'appunto nello scontro finale che caratterizza questo film ma questo ritmo che non ho apprezzato completamente è un qualcosa che mi sento di avere un pochettino ritrovato in tutto questo film a cosa mi riferisco al fatto che ho trovato il ritmo della narrazione e i tempi con cui si sviluppano certe cose un po' incostante inizialmente questo film si presenta secondo me in maniera molto rapida la capacità di Paul e di inserirsi nel contesto dei Fremen al tempo stesso poi abbiamo che cosa? abbiamo un rallentamento nella parte centrale e poi infine un'accelerata molto importante che va a concludere quasi del tutto diciamo le vicende del primo romanzo sinceramente per come si stava sviluppando la parte centrale di questo film soprattutto nel momento in cui abbiamo Paul nel suo massimo splendore che va a confrontarsi con i vari popoli Fremen e che si erge a loro guida avevi quasi pensato che scontro finale di questo film che sapevo ci sarebbe stato si sarebbe svolto in quel potenziale terzo film che il regista ha citato più volte come suo potenziale fine del percorso con Dune a poco a poco che la storia è andata avanti in realtà un po' tutto il film è riuscito ad alternare momenti più veloci a momenti abbastanza lenti e questo ritmo incostante mi ha dato la possibilità di percepire sempre di più come questo film sarebbe stato quasi più un intermezzo che un pieno concludersi di quanto appunto era stato introdotto con quel Dune del 2021 e questa causa l'ammetto mi ha lasciato inizialmente un po' perplesso in definitiva un po' irritato perché? perché comunque al di là di logiche da franchise hollywoodiane o che so io di quelle che mi interessa fino a un certo punto avrei sinceramente preferito questo secondo capitolo fosse quella conclusione abbastanza piena e completa che c'era un po' stata promessa ai tempi del primo film così è stato solo fino a un certo punto e tanti elementi che ci sono stati per l'appunto sono a visori di un qualcosa che dovrà essere esplorato ma anche banalmente senza andare a menarlo troppo con gli ultimi elementi dell'ultima parte di questo film pensiamo un pochettino al personaggio della sorella interpretata che sarà interpretata da Agna Taylor Joy questa sorella ancora nata ma che nascerà è estremamente probabile che nassa mettiamola così siccome sono sempre futuri possibili anche se qualcuno più possibile dell'altro evidentemente e che crea questo legame con la madre e con lo stesso Paul un personaggio che non può esserci mostrato e che immagino sarà fondamentale questa guerra santa possiamo definirla così che a poco a poco sempre di più non solo in parte c'è stata ma soprattutto in realtà possiamo dirlo è profetizzata e è prossima ad accadere nel momento in cui il nostro Paul padronitosi possiamo dirlo insieme al suo popolo appunto i Fremen di Arachis ad un certo punto si ritroverà essere un personaggio non riconosciuto dalle altre case dalle alte case e questo lo porterà inevitabilmente a uno scontro futuro uno scontro futuro che in realtà secondo me non era così necessario presagire così tanto al termine di questo film al termine di questa all'epoca duologia se all'epoca è stata veramente una duologia sinceramente avrei preferito come ho detto maggiore compiutezza con questo Dune parte 2 una compiutezza che ho avuto solo per certe dinamiche e che in realtà per altre non ho avuto affatto peccato in generale volendo un pochettino andare a concludere tutto il mio discorso come è andata comunque la visione di questo film è andata bene è andata bene anche se non è stata una visione straordinaria e ottimale per quella promessa più o meno mantenuta che ho citato è un film questo che mi sento di giudicare positivamente sì è un film questo che comunque permette grazie a un'estetica e a una narrazione importante e suggestiva di entrare in un mondo un mondo di cui apprezziamo per certi versi ancora di più in questo secondo capitolo le macchinazioni di questo mondo è un mondo affascinante comunque anche nella sua natura straordinaria per l'appunto non soltanto se vogliamo per quella natura anche un po' politica e di macchinazioni che caratterizza per l'appunto le sorti dei vari personaggi è un mondo in cui alcuni personaggi sono affascinanti in maniera approfondita ed altri invece sono affascinanti per quello che comportano per gli altri personaggi forse ancora di più lo stesso Paul io personalmente lo trovo più interessante più che il personaggio e l'interpretazione di Chalamet per gli effetti che questa figura questo messia ha nei confronti degli altri e per come eventualmente gli altri si redapportano appunto nei suoi confronti è un mondo questo che è stato accompagnato con una colonna sonora secondo me meno di impatto rispetto al film precedente e che quindi da questo punto di vista non è riuscito a rapirmi così tanto ma in generale forse tutto l'incomplesso per tutti i motivi che ho cercato un pochettino di raccontare questo secondo capitolo questo semi intermezzo possiamo definirlo così forse è stato un qualcosa che forse sarebbe potuto essere qualcosina di un pochino diverso sarebbe potuto essere qualcosa secondo me di ancora più importante e ancora più importante se fosse stato come ho detto e ripetuto il culmine e la conclusione di un viaggio un viaggio che non si va a concludere e quindi il mio giudizio limitato a questo film pur positivo è solo parziale perché di fatto non essendosi concluso il viaggio quell'impegno cominciato nel 2021 col primo film di un di Denis Villeneuve è un qualcosa che ancora deve arrivare a compimento e che potremmo di fatto valutare nella sua completezza soltanto col prossimo tassello un prossimo tassello che ammetto sarà basato su un qualcosa che proprio non conosco e che davvero spero sia una conclusione più soddisfacente più completa più straordinaria sotto spero un po' tutti i punti di vista di quanto ho visto in questo secondo capitolo che come ho detto ha un po' tradito le mie aspettative spero davvero che questo terzo messia di Dune possiamo definirlo così se si baserà per l'appunto sul titolo del romanzo originale da cui sarà tratto spero davvero che questo concludersi del viaggio di Paul riesca a farmi ricredere tutte le perplessità che questo Dune parte 2 mi ha dato ero più speranzoso al termine del film precedente adesso lo sono di meno spero di ricredermi lo spero davvero tanto perché credo che questo genere di film sia un qualcosa che manca da un po' di tempo nel cinema cinema blockbusteroso e quant'altro e se questo viaggio riuscirà a concludere completamente in maniera soddisfacente questo viaggio chissà potrebbe essere un'esperienza positiva per aprire le porte a un qualcos'altro di profondamente diverso che potrebbe arrivare sempre dello stesso genere era questa la mia speranza al termine del primo film di Dune con questo secondo film per via dei suoi più o meno tradimenti questa speranza si è un po' affievolita spero davvero di ricredermi al termine del prossimo tassello un tassello che spero arrivi molto presto e che davvero non vedo l'ora di provare a vedere grazie a tutti grazie a tutti